Ripartiamo da qua, in macchina per andare a suonare, incredibile. Siamo vicino perché siamo a Bologna, ma vediamo dove è. La macchina è carica più che mai. Siamo arrivati alla montagnola. Adesso capiremo dove montare il palco. Oggi c'è un ospite speciale con noi. Ciao! E Alessandro presentimo. Voilà! Primo concerto da un milione di giorni. Io sono super emozionato. Anche la Fra adesso è andata a montare il banchetto del merchandising. Non abbiamo mai avuto un banchetto così bello del merchandising. E' bellissimo partire questo tour da Bologna. Non vediamo l'ora di arrivare in tutte le città possibili. In realtà l'emozione è partita da quando abbiamo tirato giù la prima chitarra, il primo basso, i primi strumenti amplificatori perché veramente vedere il palco, vedere tutte le sedie davanti al palco, anche se vuote ancora, è già da subito un colpo d'occhio. Adesso speriamo che stasera si riempano tutte. Oh, that's roly-poly! Oh, that's roly-poly! Ho continuum, baby! Oh, that's roly-poly! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E voilà. E voilà. Serata finita. Ci siamo dimenticati di fare partire le fotocamere. E quindi non avrete nessun video del live. Un pezzettino. L'abbiamo finato. Forse sì. Sono super emozionante suonare a Bologna con la prima mappa del tour. C'erano un sacco di amici, un sacco di gente. Grazie, grazie, grazie di qua. Cosa hai? Qua un po' di vinile, adesso scarichiamo la macchina. Scarichiamo la macchina. Però ci vediamo venerdì, che suoneremo a colorlo. Prossima data a Parma. All right. Continua il vlog domani.